Per l'Avis di casa, ha passato tanto tempo anche in questo ufficio, quindi conosce benissimo il valore della donazione. Questa mattina l'Avis ha donato al Comune la bandiera perché venga fissa in occasione della giornata del donatore. Un momento significativo e importante che deve essere anche di esempio per tutta la città. Sì, io l'Avis la conosco molto bene perché l'ho frequentata, ho fatto il volontario ed è una bellissima realtà della nostra città. Oggi è la giornata del donatore, quindi abbiamo issato la bandiera dell'Avis nel pennone del Comune, abbiamo colorato di rosso l'arco d'Augusto e ci sarà un convegno oggi pomeriggio proprio su questo tema. Detto questo, io oggi andrò a donare Plasma dopo qualche mese dovuto alla campagna elettorale in cui non ho donato. È un gesto importante per la quale io penso che sia anche bello che il primo cittadino dia il buon esempio, come è stato fatto anche in passato. Quindi l'invito che rivolgo a tutti i concittadini fanesi e non solo è di recarsi e contattare Avis, di iscriversi e poi andare a donare. È un gesto fondamentale perché salva le vite umane. Io penso che Avis svolga un lavoro eccezionale insieme all'azienda sanitaria territoriale di Pesururbino. Ci sono tantissimi professionisti che ci lavorano. È un centro trasfusionale veramente molto importante per il nostro territorio e per la nostra città. Oggi è una giornata importante per l'Avis, è una giornata che si celebra a livello mondiale, la giornata delle donatore. Giuseppe Franchini, presidente dell'Avis di Fano, quali sono le iniziative assunte dalla delegazione della nostra città? Bene, sì, è indubbiamente una giornata importante in cui si vuole porre l'attenzione sulla centralità della donazione e sulla centralità della solidarietà. Come Avis ovviamente non celebriamo tanto la giornata quanto piuttosto un impegno che si svolge nel corso di tutto l'anno. E quindi stamattina come momento simbolico, indubbiamente insieme al sindaco, al neosindaco della città, porremo sul pennone della residenza comunale la bandiera Avis a significare questa presenza nella collettività. Poi durante la giornata si svolgeranno altri due momenti importanti. Il pomeriggio avremo nella chiesa di San Francesco, nell'ex chiesa di San Francesco, un incontro con i neodonatori e le neodonatrici e quindi consegneremo loro la tessera di donatore, ma nel contempo avremo modo con i medici dei reparti di urologia e di ginecologia di presentare le attività di prevenzione che sono state svolte nel mese di maggio nei confronti di donatrici e donatori nel senso che tutti i donatori e donatrici di quel mese hanno la possibilità di avere una visita gratuita se maschi di urologia, se donne di ginecologia. Quindi anche questo ha significato l'attenzione e la salute dei donatori perché è il valore primario perché un buon donatore poi dona salute generosamente a chi ne ha bisogno. Finiremo con altri eventi simbolici, cioè colorare di rosso alcuni monumenti della città, l'arco d'Augusto, forse la fontana di piazza, adesso dipende dalle scelte che farà l'amministrazione, per quel che ci riguarda noi anche la nostra piazzetta donatore di sangue.